Troppo piccolo il teatro vasariano di Piazza Grande per contenere la richiesta di cultura degli Aretini. È stato un giardino delle idee ancora una volta da record, quello di sabato scorso con Philippe Daverio e Alberto Angela. Il primo incontro in programma alle 17 con Daverio per la presentazione del libro Guardar lontano, veder vicino, che ha registrato 430 presenze. Alle 21 il secondo incontro, quello con Alberto Angela per la presentazione del libro Viaggio nella Cappella Sistina. 500 le persone che sono riuscite ad entrare, ma tante altre quelle che invece sono dovute rimanere fuori. Quali emozioni questo viaggio, dottor Angela? L'emozione di fare un viaggio nel tempo, trovarsi dentro un luogo che è stato concepito dai papi per il sacro, ma che poi in realtà queste opere hanno travalicato, sono andate oltre le pareti del sacro e sono entrate nella mente e nel cuore di tutto. Io immagino il momento finale in cui Michelangelo stacca il pennello, l'ultimo ritocco che ha fatto nel giudizio universale, fa qualche passo indietro, osserva quest'opera, fa un grande sospiro di sollievo e sorride. Io penso che il suo sorriso sbocci ogni volta dentro i nostri cuori, lo stesso sorriso ogni volta che siamo dentro la Cappella Sistina. E dopo questo tour de force, gli organizzatori si preparano ad una primavera impegnativa. Sabato 15 marzo sarà la volta di Gianrico Carofiglio, il 5 aprile Anna Marchesini, il 26 Andrea Vitali. Sabato 3 maggio Alan Friedman per la presentazione del saggio Ammazziamo il gatto pardo. Gran finale sabato 17 maggio, quando a grande richiesta tornerà in città lo chef pluristellato Carlo Cracco.